basta alle campagne mediatiche contro l'inter basta 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 non ce la facciamo più dobbiamo difenderci il monarca difende l'inter anche oggi sempre con più cuore sempre con più forza basta con questa macchina del fango mi rivolgo a tutti anche ai colleghi youtuber dell'inter a tutti quanti difendiamola più che si può ragazzi non ce la si fa più ci stanno facendo di tutto allora partiamo per gradi dall'ultima partita con il Verona dove poi scopri scopri che il gol di Henry nasce da un fallo su Arnautovic non è stato fischiato quel fallo poi scopri che quella di Bastoni non è una comitata perché poi hanno fatto vedere altre immagini dove si vede chiaramente che è una spallata e per di più la spallata arriva dopo che sul calcio d'angolo battuto al nostro favore il giocatore del Verona duda abbraccia e provoca in tutti i modi i bastoni semmai è lui che lo fa il fallo perché tenta di affossarlo Bastoni lo abbraccia ma direte voi di quegli abbracci in aria ce ne sono mille sui calci d'angolo non puoi fischiare cento rigori bene come non puoi fischiare cento spallate ma questo ovviamente non ve lo vengono a dire perché devono creare la macchina del fango e come ha detto giustamente Aldair e questo ho detto anch'io nel nel mio video post partita ma l'ha ribadito Aldair a Mettefredda grandissimo difensore ex Roma ex Brasile queste sono le scuse di chi perde perché poi dalla spallata di bastoni ripeto spallata non gomitata fino a che l'intersegna la palla si muove per molto tempo e in tutt'altra direzione perché loro si trovano sulla destra poi avviene il cross poi c'è il tiro di c'è proprio passa l'ira di dio prima di segnare tira bastoni traversa la palla torna tiro a incrociare respinge il portiere arriva frattesi una roba incredibile poi cosa vai a scoprire anche se ti ci metti lì che Magnani sul rigore subisce un tocchettino da Darmian ma si butta due secondi tre secondi dopo di ritardo quello è un rigorino ma voi pensate che ha una squadra che dovrebbe essere favorita il complotto del palazzo per far vincere l'inter ti assegnano un rigore in casa contro al novantottesimo un rigorello del genere che Darmian neanche lo sfiora ma vi rendete conto lo schifo che fanno i media Zazzaroni ha insinuato che Marotta sia un manipolatore ha detto lui è uno molto bravo in queste cose vince 10 a 0 come dirigente ma quando poi Biasini gli ha chiesto in che senso parlo della trasmissione su 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 mila mediaset no pressing lui non ha detto perché è bravo a comprare calciatori perché è bravo a fare le trattative perché è bravo a gestire la squadra lui ha detto che in certe situazioni no in lega è molto pesante e ha un peso cioè lo ha fatto passare per il tizio che fino a dieci anni fa lui sì che comandava la serie A ovviamente grazie al potere della famiglia che rappresentava e parlo di Moggi che rappresentava la famiglia degli Agnelli lui sì che chiamava gli arbitri disegnava le griglie manipolava le moviole manipolava il mercato tanto è vero che quando questo signore per far passare calciopoli come un'invenzione fece la querela nei confronti dell'inter di Tronchetti Provera delle intercettazioni qualche giorno fa è stato condannato a risarcire l'inter perché ovviamente giudici noi hanno dato ragione questo però in quanti siti lo avete letto che Moggi deve risarcire l'inter per diffamazione forse in uno sicuramente non l'avete letto in prima pagina basta con questa macchina del fango contro di noi avete rotto le palle il il DS del Verona che parla che dice che loro gli hanno mancato di rispetto no perché non era da annullare il gol di Frattesi per quella che lui chiama gomitata su bastoni che cosa ha detto lui il DS del Verona quando proprio in Verona Juve nell'azione del gol della Juve che costa al Verona la sconfitta Gatti dà un pugno a palla ferma nel petto del calciatore del Verona lì non ha detto niente mi sembra è sempre quella stessa partita dove il Verona sta per segnare a porta vuota e Bremer fa una parata di mano sulla linea quindi due episodi totalmente a sfavore del Verona che gli sono costati quantomeno il pareggio lì mi sembra che non abbia detto niente il DS del Verona mai parla solo contro l'Inter ve lo siete chiesti perché sono tutti servi a livello di comunicazione dei Gobbi e del Milan e invece contro l'Inter si crea la macchina del fango fra l'altro lo staff arbitrale credo sì il il VAR il VAR in questo caso di Inter Verona è lo stesso che in nella partita della Juve contro il Bologna col Bologna che vince un a zero e la Juve che non sta vedendo palla succede che c'è un'azione per il Verona Scesni era ormai fuori dalla porta il calciatore del Bologna sta per tirare a porta libera sta per mettere dentro la palla del 2 a 0 a un metro dalla linea neanche a mezzo metro dietro di lui interviene Iling Junior falciandolo un fallo che è rigore ed espulsione lo hanno detto tutte le moviole il VAR che è lo stesso di Inter Verona non interviene non richiama l'arbitro sull'azione successiva cross proprio Iling Junior che doveva essere espulso colpo di destra di Milic 1 a 1 del Bologna non mi sembra che io dopo quella partita abbia letto in qualche giornale c'è un complotto per far vincere la Juve eh l'Agnelli League l'Elkan League non ho letto queste cose non ho letto che eh non ho visto in qualche trasmissione Zazzaroni che dice che i dirigenti della Juve vincono 100 a 0 10 a 0 e sono più bravi degli altri hanno un peso nella Lega questo io non l'ho visto e allora basta con questa macchina del fango fate schifo non sapete dove aggrapparvi per contestare una squadra che è il miglior attacco per distacco della Serie A credo che la seconda squadra che ha segnato più di noi eh la scartiamo di almeno dieci gol se non di più la miglior difesa quindi la squadra che prende meno gol è l'Inter ed è quella che ne segna di più ma molto di più degli altri c'è una squadra che fa un gioco per la maggior parte delle volte meraviglioso poi anche noi abbiamo i nostri cali non puoi vincere tutte le partite dominando con caccio champagne anche noi abbiamo i nostri cali ma uno squadrone del genere nei titolari nei titolari l'Inter è uno squadrone ok e lo infanghi facendo passare le vittorie dell'Inter come un aiuto del palazzo e non la forza della squadra fate schifo il vostro livello di servilismo e parlo di giornalisti di giornalai anzi dovrebbero essere chiamati con tutto il rispetto per il lavoro dei giornalai che sono gente onesta eh dei media in generale è veramente vergognoso e mi tocca sentire giuventini gobbi ladri di cioè appartenenti a una società che in un qualunque altro paese del mondo sarebbe stata irradiata questi qualunque reato potevano commettere l'hanno commesso dal doping dove dove sono stati condannati solo che il processo è caduto in prescrizione loro si prescritti ma erano stati condannati solo che non erano più perseguibili perché era eh decor cioè il reato era decorso ormai prescrizione scattata comprare gli arbitri cioè proprio ce l'aveva una libro paga calciopoli moggi che chiamava e dettava lui le griglie arbitrali ci diceva ai designatori perette e Bergamo chi mandare ad arbitrare l'Inter chi mandare ad arbitrare la Juve chi mandare ad arbitrare Milan una roba vergognosa eh falso in bilancio è giusto l'ultimo dove cambiavano le fatture a penna cioè questi hanno nascosto di aver pagato degli stipendi che poi invece hanno pagato a nero perché non risultavano a bilancio e per questa cosa c'è un'indagine ancora della giustizia ordinaria quindi quella vera non quella sportiva che un reato del genere dove devi andare in serie B gli hanno fatto 700 mila euro di multa e solo 10 punti di penalità vergogna siamo siamo nel paese nella Repubblica delle Banane siamo neanche i signori della guerra nigeriani hanno tutto il potere che c'ha questa famiglia qua in Italia e sento i juventini lamentarsi gente che per acquisire un calciatore dopo che per incompetenza della società hanno finito tutti gli slot come posti per extra comunitario vanno a truccare un esame l'esame di Suarez e anche lì la passano liscia non gli è successo niente se ne sono usciti puliti ma queste sono cose scandalose è uno juventino che si lamenta degli arbitri sostenuti da quei codardi e conigli di milanisti che pur di non vedere vincere l'inter si alleano con una squadra che in primis a loro li ha derubati cioè il gol di Montari che gli ha fatto costare uno scudetto gli è costato uno scudetto questi sono sono scordati e voi andate a sostenere questi latri fate più schifo di loro voi fate più voi milanisti fate più schifo degli juventini perché vi alleate formando le brigate rosso bianco nere dovreste vergognarvi fate schifo più degli juventini perché quelli almeno sono latri vabbè si nasce e vivono nelle realtà ma voi andate dietro fate schifo fate schifo comunque voglio sapere la vostra iscrivetevi al canale cliccate prima su iscriviti subito dopo sulla campanella e selezionate tutte in modo che vi arrivino le notifiche di tutti i miei video o di quando entri live live che faremo stasera serie a live grandissimi ospiti fra cui surfa sport grandissimo content creator un amico ovviamente un fratello interista parleremo con lui e con tutti gli altri ospiti delle praticamente poi delle partite più importanti quindi inter verona la juve che poi vince in dieci la sanità in dieci al novantunesimo vince 2 a 1 vabbè un'esporsione di gatti non data ma vabbè e il milan che travolge un empoli che ovviamente è una squadra che lotterà lotta e lotterà sempre di più per la retrocessione quindi parleremo di tutto stasera serie live mi raccomando dalle 21 voglio sapere la vostra mi raccomando iscrivetevi al canale il nostro solito saluto è latino vide te mox forza inter sempre 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 Grazie a tutti